Ciao a tutti! Oggi vi faccio vedere come preparare un frullato energizzante e super rinfrescante con due dei miei frutti preferiti, la banana e la pera. Vediamo subito che cosa vi serve per prepararlo. Quattro pere tagliate a pezzetti, io ho scelto la bate. Il succo di un limone. Due banane belle mature. Come al solito anche questa ricetta è velocissima. Facilissima e soprattutto molto versatile. Fatemi sapere nei commenti se avete provato ad aggiungerci qualche altro frutto o se avete sostituito uno dei due frutti che ho usato io che magari non mi piace. È un ottimo spuntino post workout, quindi dopo lo sport è super energizzante e vi ridà un po' di vita dopo aver speso un sacco di energie. Spero che la ricetta vi sia piaciuta e fatemelo sapere nei commentini se la provate. Ciao!